La provincia riapre la strada che da Castelli porta a Rigopiano? Sì, la provincia riapre quella strada perché qualcuno deve ricordare e deve sapere che dal sisma 2016 e quel famoso gennaio 2017 lì c'è un versante che infrana, tant'è che viene chiusa non oggi, non l'anno scorso, ma viene chiusa da decenni. Tra l'altro lì c'è un progetto e ci sono anche i soldi finanziati, circa 6 milioni di euro che sono gestiti dalla provincia di Pescara perché lì coinvolge la provincia di Teramo, la provincia di Pescara, dove dopo un anno e mezzo è arrivato l'occhè della Saurintendenza questo è quello che oggi viviamo per eseguire i lavori, a breve ci sarà una gara d'appalto e sarà messa in sicurezza così si potrà non chiudere ogni anno quella strada. Quest'anno dunque ci potrebbero essere delle speranze di non chiuderla in inverno? Allora adesso l'abbiamo riaperta ieri e dipende se i lavori partono, se alcune frane importanti vengono già mitigate ecco c'è il rischio che un altro anno la chiudiamo, comunque l'obiettivo è quello che appena finiti i lavori fra qualche anno e quella strada rimarrà aperta.